Potrebbe avvenire un ritracciamento su Bitcoin? La FOMO si è sgonfiata? Ne parliamo e analizzeremo bene la situazione proprio in questo video. Prima di partire diamo un'occhiata a come sta andando il portafoglio su Bitpanda, visto che si è chiuso settembre e sono passate più o meno due settimane da quando abbiamo iniziato a investire. Siamo attualmente a 375 dollari, quindi con un utile attualmente di un 15 dollari circa. Vediamo come stanno andando proprio le varie categorie, in particolare le crypto. Questo ci serve per capire come sta evolvendo l'intero mercato attualmente e come sta andando, come sta procedendo. Allora al lato ETF diamo un'occhiata, io qua ho messo un Emerging Markets, un Developed World Stocks, quindi un normale ETF World e poi l'SP500. Come vediamo ETF World e SP500 sono praticamente allineati, l'Emerging Markets invece sta performando molto bene. Ed è questa la parte che voglio sottolineare, ecco perché ho detto andiamo a vedere come stanno rendendo. Perché? Che cosa è successo? È successo che la Cina ha sparato il suo bazooka finanziario. Era da un po' di tempo che ormai non immetteva liquidità nel mercato, ora l'ha immessa e i mercati hanno iniziato a impazzire. Sia quelli cinesi e chi ha delle azioni cinesi se ne renderà sicuramente conto, se ne sarà accorto. Personalmente ho diverse azioni cinesi in portafoglio e sono letteralmente esplose. Dall'altra parte però anche gli altri mercati hanno scontato bene la notizia e anche Bitcoin ha scontato bene la notizia. Quindi si è fatto il suo pump che vedremo tra poco e lo andremo ad analizzare per capire se è solo una questione di FOMO dovuta a questo slancio di liquidità o se può effettivamente continuare, in che modo e quali caratteristiche, quali cose dovrebbero succedere affinché possa continuare. Poi andando comunque ad analizzare ancora un po' la situazione, scorriamo giù, abbiamo le materie prime. Anche in questo caso ci sono stati dei buoni profitti a parte energie e petrolio che sono scesi, il resto è esploso abbastanza. Metalli sono più che alti, quindi nulla da dire qui ma ormai lo sappiamo, sembra un to the moon continuo sui metalli. Lato cripto indici io ho comprato qua su Bitpanda un BCI 10 che è sostanzialmente l'insieme dei top 10 crypto asset, come possiamo vedere qua. C'è un portafoglio compreso di questi crypto asset che viene automaticamente ribilanciato e a proposito se non hai Bitpanda qua sotto ti lascio il link, registrati perché hai la possibilità di investire in modo relativamente semplice proprio tramite questi crypto indici sul mercato crypto, acquistare comunque anche crypto sciolte, infatti adesso andremo a vedere proprio le nostre crypto sciolte ma come puoi vedere qua hai tutti gli asset che vuoi, crypto, crypto indici, quelli che abbiamo preso, azioni, ETF, materie prime, metalli, c'è veramente tutto. Nel caso dei metalli li possiedi, qui non te li spediscono a casa fisici però comunque li hai stoccati in Svizzera. Ora andiamo alle nostre crypto, andiamo a selezionarci il nostro Bitcoin e vediamo come sta andando. Da qua come puoi vedere puoi anche modificare il tipo di grafico, le candele o il grafico a linea. Mettiamo per esempio le candele, mettiamo un grafico 30 giorni per vedere che cosa è successo, anzi facciamo un 7 giorni, eccolo qua. Giusto per capire che cosa è successo, è successo sostanzialmente questo, c'è stata questa ripresa repentina di Bitcoin che è passato da 63, 63, 63 e mezzo a un 66,5, ha toccato. Per poi lateralizzare un pochino e attualmente ha ritracciato e ha recuperato un po' questo movimento come ci aspettavamo. Ora andiamo magari su un macro, un 30 giorni, no mettiamo un annuale, eccolo qua così è un po' più chiaro. Nell'annuale come puoi vedere qui, questo è il trend. Tac, tac, te lo faccio vedere qui su Bitpanda perché è molto più semplice da analizzare perché è un grafico contenuto e quindi più facile per noi capire come si sta muovendo. Ciò che mi aspettavo e ciò che ho anche detto nel gruppo Telegram e se non sei ancora nel gruppo Telegram qua sotto ti lascio il link, è gratuito. E avevo detto ragazzi qua parte il pump, secondo me raggiunge i 66, 67, 68k quindi quest'area qui e viene rigettato. Perché ho detto questo? Perché prima di ottobre io mi aspetto un rigetto, quindi magari fino in quest'area qua, quindi tra i 60 e i 50 a scendere, prima di andare a recuperare slancio per partire. Questo è importantissimo a mio avviso per far che cosa? Per andare a pulire dagli ultimi long che sono entrati in quest'area. Quindi effettivamente finché non c'è un breakout di questa zona e la zona da breccare, da rompere è quella dei 68k, finché non viene rotta questa zona è difficile dire effettivamente andare in su. Certo se la rompe, mi rimbalza e va, può farlo, può anche bitcoin per carità rompere e andare dritto, diretto ai 70k, l'ha già fatto in passato quindi è assolutamente probabile, Ma è molto più probabile a mio avviso questo, quindi un rimbalzo più che naturale che vada a liquidare un po' di long piazzati lì, un po' di leve, un po' di fare pulizia, Pescare liquidità, esaurire un po' forza dei sell e a quel punto riposizionarsi prepotentemente con i long per andare a rompere, quindi acquisire forza, Spaccare, andare sui 70 e colpire il target che mi sono prefissato personalmente io, che ricordo è tra gli 80 e i 90k. Quindi questo è il target che ho attualmente in mente io per ottobre e novembre come possibile target bull per bitcoin, poi si vedrà che cosa fare. Questa è la situazione secondo me. Ora passiamo a vedere un po' di dati macro invece come sta andando su bitcoin. Ti lascio comunque come ho detto Bitpanda qua sotto linkato, puoi anche creare dei piani di risparmio quindi molto molto interessante, le cripto le possiedi, cioè Bitpanda ti fa da intermediario, se Bitpanda fallisse i metalli, le cripto sono tutte le tue proprietà e quindi ti verrebbero poi trasferiti. Detto ciò andiamo a vedere gli ETF come stanno andando visto che da un po' che non li guardiamo e devo dire c'è ben poco da guardare se non che dall'11 settembre al 13 settembre zero assoluto su BlackRock. Guardo BlackRock in particolare perché quello che spinge tendenzialmente come possiamo vedere qua ha spinto maggiormente il mercato. BlackRock mi sembra almeno da quello che sono i dati che abbiamo visto e che abbiamo già detto nelle precedenti analisi un pool di investitori un pochino più consapevoli di quello che stanno facendo. Il 16 hanno acquistato, poi di nuovo tutto piatto, il 23, il 24, il 25, il 26 e il 27 hanno comprato parecchio e poi adesso vedremo come andrà oggi con l'apertura e tutto il resto. Quindi attualmente la situazione non è chissà quanto in FOMO rispetto quanto era precedentemente abbiamo visto che c'era molto più accumulo però ci sta perché siamo comunque a ridosso di ottobre. E a proposito vediamoci anche questa chart come si sta aggiornando l'avevo già mostrata in un video eccolo qua. settembre come avevo detto mi aspettavo un po' di ripresa, un po' di movimento, non mi aspettavo in realtà un più 8%. L'altro ieri era mi sembra qua un più 12% e mi aspettavo che ci fosse un po' di ritracciamento come ho detto anche nel gruppo. effettivamente abbiamo ritracciato adesso un pochino, mi aspetto qua che possiamo chiudere settembre, oggi chiudere settembre al netto di notizie particolari, al netto di un bitcoin che pompa veramente secco, più o meno con un 4-5%, 6%. Quindi mi aspetto ancora oggi un calo magari del 2% massimo 3%, a meno che ripeto non ci siano notizie particolari che facciano andare bitcoin in una direzione o nell'altra. Magari ti arriva una notizia di fomo assurda e il prezzo mi schizza su di un 5% o una notizia tragica e mi scende giù di un 10%. Non lo possiamo sapere. Comunque per ora sta chiudendo bene il mese di settembre. Ma il mese di ottobre è quello che guardiamo, quello che sto aspettando e che sto guardando ed è proprio qui che dobbiamo capire cosa ci sarà in questo spazietto qua, quindi come andrà. Statisticamente è sempre stato un mese up, quindi vedremo un attimo come evolverà la situazione. È in questo mese che io mi aspetto il più del movimento di bitcoin. Bitcoin che in quest'area, in questo momento, andiamo a mettere un grafico daily, così abbiamo un'idea auto, eccolo qua, che è quello che abbiamo visto prima, però te lo vado a rimostrare in modo più dettagliato. Questo è il livello che ha rifiutato nuovamente e sta ritracciando. Pare per adesso che non ci sia stata la forza per spingere nuovamente in su, però vediamo che comunque ha costruito una sorta di top higher high, higher low, quindi potrebbe anche proseguire in questo modo. Difficile secondo me, pericoloso, perché comunque stiamo parlando di una pendenza molto elevata, però nulla vieta che possa farlo e che possa continuare. Ricordo la mia area è qua, quindi fai più o meno qua 80-90k. Personalmente preferisco ci arrivi in questo modo, facendomi una roba di questo tipo, quindi un ritorno in questo box, quindi dove c'è stato il minimo qua tra i 50-48k in quest'area, un ritorno in quest'area, un po' di movimento così per andare a chiudere settembre, e poi si rinizia a ottobre in questo modo, rottura di questi livelli, in particolare il livello che deve rompere è questo qua dei 68, quindi questo, questo è il livello da rompere, un po' di roba così, tac, e poi andare dritti a colpirci la nostra area. Questo è quello che mi aspetto su Bitcoin, quello che mi piacerebbe vedere, perché significherebbe, come ho detto già prima, acquisire forza lungo questo movimento, per poi avere abbastanza propellente per partire. A livello macro, un'altra cosa importante da analizzare, torniamo magari su un grafico mensile, è la liquidità. Dobbiamo guardare anche la liquidità globale, come si sta muovendo. Eccola qua, questa è la global liquidity, mettiamo un attimo auto, così, eccolo qua, lo sposto in giù. Vediamo, la liquidità ha subito un'accelerata. Bitcoin è comunque tendenzialmente positivo, anche se si trova in questo movimento qua, però è proprio qui, con questa accelerata, che mi aspetto appunto l'ultimo colpo di reni del mercato, prima di un'eventuale recessione. Io continuo a credere che il 2025 sia un anno di recessione. Quanto grave, non lo so, non possiamo ancora saperlo, ma credo che sia, e ci siano le basi, per avere un anno di recessione. Però, appunto, lo scopriremo solo vivendo. Quello che mi interessa, però, andare a sottolineare, al netto di recessione o cose varie, e questo grafico qui, che torno a ripetere perché è importante da capire. Questo è il grafico logaritmico di Bitcoin. Andiamola a sovrapporre alla global liquidity e vediamo come si muove. Quindi non facciamoci prendere dal panico nel breve termine, perché vediamo Bitcoin non rispondere benissimo come stanno rispondendo altri asset. Diamogli tempo, capiamo che siamo comunque a combattere su un'area importante, un'area di top importante. Stiamo lateralizzando molto rispetto al passato in quest'area qui, ma ci sta, comunque abbiamo visto anche qua una buona lateralizzazione più o meno a ridosso di quest'area, prima di andare a conquistare livelli più alti. Come dicevo, quello che mi aspetto qui è un po' di lateralizzazione, come c'è stata, ed è quello che ho detto a inizio anno. Un'ulteriore rottura ribasso per poi andare a seguire l'onda di liquidità e andare pian piano a salire. Se non nel 2025, qua ci potrebbe essere tranquillamente un ulteriore calo prima di ripartire, però in ogni caso ottobre-novembre, secondo me, ci sono buone chance, buone probabilità di andare a colpire il nostro range degli 80-90k. Questa era giusto l'analisi di oggi, come mi sono impostato e che cosa sto guardando. Sono per ora estremamente paziente, quindi sono posizionato ancora a long term, ho ancora il mio holding lì fermo che non tocco, ho ancora una parte speculativa lì ferma che non tocco. Se ci fosse un ulteriore calo e veramente andasse a toccarmi 50-48k, probabilmente rientrerei con qualche shitcoin anche, quindi con qualche altcoin. Per ora ne ho una quota ancora speculativa lì ferma, e andrei molto probabilmente ad integrarla per approfittare di ottobre. Chiaramente nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno sa come andranno i mercati, però se tanto mi dà tanto, vista la situazione globale, è molto probabile che ci possa essere un apprezzamento, una crescita sul mercato in generale. Quindi vediamo come evolve oggi la situazione. Intanto qua vedo bitcoin è scambiato a 64 e 154, quindi è sceso un pochino il prezzo e vediamo come evolve la situazione. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, o qua sotto ti lascio il link alla precedente analisi, quindi quella di lunedì scorso. Ti lascio il link del gruppo chat Telegram, entra lì nel gruppo perché è un canale diretto, parliamo sia con me personalmente che anche con tutti gli altri ragazzi della chat. Ti lascio anche il link di Bitpanda, ottima piattaforma soprattutto per chi ha le prime armi, ma anche per i più avanzati perché ti permette di gestire un portafoglio completo, tenerlo lì analizzato, poterlo monitorare da un'unica piattaforma anziché avere migliaia di piattaforme. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio grande come sempre e ci vediamo nel prossimo video. Grazie.